Chi si dai a Peer è un prodotto creato da Kairos al fine di permettere ai risparmiatori di beneficiare della normativa sui piani individuali di risparmio, una normativa che permette a chi investe con un orizzonte temporale medio-lungo, oltre i 5 anni per ogni investimento, di beneficiare dell'esenzione delle plusvalenze realizzate. Partendo da questo presupposto abbiamo creato un prodotto dedicato, non mischiandolo ad altri prodotti, in quanto riteniamo che debba seguire una logica di investimento molto specializzata. L'idea è quella di andare a acquistare delle aziende, non di comprare degli indici, e di vedere i risparmi crescere man mano che anno dopo anno si vede la crescita delle aziende nelle quali abbiamo investito. Il fondo opera attraverso tre asset class. La prima è l'azionario Italia, con particolare riguardo alle mid and small cap. La seconda sono i bond italiani, e in particolare anche qua bond emessi da media aziende italiane, che devono servire come strumento di finanziamento per le aziende. E una terza parte residuale è fatta sulle azioni large cap europee. Questo al fine di garantire al fondo costantemente durante tutta la sua vita un discreto livello di liquidabilità. Siamo convinti che questo prodotto ci possa permettere da un lato di aiutare l'economia italiana e le aziende italiane, dall'altro di permettere ai nostri risparmiatori di avere un ritorno estremamente interessante. Grazie. Grazie. Grazie.